È chiuso ormai da circa quattro mesi il sottopassaggio della stazione di Arezzo che dai giardini di campo di Marte consente appunto di attraversare i sotterranei della stazione, di andare sotto i binari e sbucare in piazza della Repubblica. Un disagio importante per chi deve attraversare ovviamente i piedoni, insomma questo tratto della città di Arezzo e che in questi mesi hanno dovuto ovviamente modificare non di poco il loro percorso. Per questo è nato un gruppo Facebook che si chiama Città Divisa a Metà, questo è il titolo, sono tanti i membri ma indubbiamente il numero è destinato a salire e uno dei suoi fondatori parla anche di una probabile raccolta firme che ci potrebbe essere a breve proprio per chiedere insomma a chi di dovere di poter presto riaprire il sottopassaggio. Questo gruppo scrivono nasce per una probabile raccolta firme da porre al sindaco, al questore, al prefetto riguardo appunto la chiusura insensata, questo è l'aggettivo che loro utilizzano, del sottopasso della stazione che ha avuto questa idea non ha considerato i diritti dei lavoratori e dei liberi cittadini che possono transitare da una parte all'altra della città come ad esempio i lavoratori che devono raggiungere l'ospedale di Arezzo. Insomma queste le motivazioni dei cittadini sicuramente le istituzioni che hanno deciso la chiusura di questo sottopasso avranno avuto i loro buoni motivi ma adesso questi cittadini chiedono che si possa fare qualcosa.